via. Iniziamo oggi un grosso capitolo della fisica, quello che riguarda l'elettromagnetismo e che lungo il quale faremo una lunga strada in realtà perché dall'osservazione che l'ambra se strofinata può attirare piccoli pezzettini di paglia o di carta, arriveremo a capire come i fondamenti dell'elettromagnetismo hanno cambiato addirittura la nostra concezione dello spazio e del tempo. Questo è un percorso che ovviamente completeremo non quest'anno ma l'anno prossimo. Al solito iniziamo con i concetti fondamentali riguardanti l'elettricità e il concetto di carica elettrica e l'interazione tra cariche diverse. Io come sempre userò i disegni, i grafici che prendo dal testo di fisica dell'OpenStacks College, come anche in precedenza, le simulazioni del FET e qualcuna dell'Open Source Physics. Allora, l'elettricità è quella parte dei fenomeni della natura che coinvolge la carica elettrica, che è una caratteristica della materia di fondamentale importanza. È alla base della quasi totalità della nostra tecnologia. L'illuminazione è un fenomeno elettrico, gli orologi funzionano tramite l'elettricità, i motori, le calcolatrici, la tv, tutte le telecomunicazioni. La struttura stessa della materia è legata all'elettricità, il pensiero stesso è un fenomeno elettrico. Senza l'elettricità non potremmo neanche pensare. Quindi è una classe di fenomeni di importanza fondamentale. La storia di elettricità è antichissima. Il primo che ne parla è Taleti di Mileto. Taleti è lo stesso che ha fondato la geometria nel VI secolo a.C. documenta e scrive il fatto che se uno prende piccoli pezzetti di ambra fossile, l'istrofina possono attrarre diversi oggetti leggeri. Qualche secolo dopo ci sono documenti che attestano la creazione, cioè l'esistenza di dispositivi per rivestire oggetti in metallo, quello che oggi noi chiamiamo galvanostegia, già a Bagdad. Plinio anche racconta dei fenomeni magnetici, osservati il primo posto a magnesia da cui deriva il nome. Tra l'altro l'elettricità deriva dal nome che i greci davano all'ambra in greco antico, elettron, l'ambra fossile, da cui appunto la proprietà di attraverare questi pezzettini di pagliuzza era chiamata elettricità, da cui il nostro nome è elettricità. Qui oggi è raro avere per casa un pezzo di ambra, come vedete qui in basso a destra, ma possiamo per esempio usare della plastica o del vetro. Se prendiamo un petino di plastica e lo strofiniamo e lo avviciniamo a piccoli fogliolini di carta, vediamo che può attirarli. Oppure se lo avviciniamo addirittura a un flusso di acqua da rubinetto, può deviarne la traiettoria, come vedrete in questo breve filmato che spero di riuscire a mostrarvi. Ditemi se sentite. Un palloncino caricato per strofinio è in grado di attrarre dei piccoli pezzi di carta. Oppure è in grado di deviare la traiettoria di un filo d'acqua, senza toccarla. La trazione poi dipende dalla distanza degli oggetti. Se avvicino il palloncino carico, l'effetto di deviazione dell'acqua è più pronunciato. Anche i peli del braccio vengono attratti ed è come se si disponessero lungo dei raggi che puntano verso il centro del palloncino. Il palloncino carico produce intorno a sé un campo elettrico. Il concetto di campo lo vedremo probabilmente nella prossima lezione. Intanto. ...che indica con quale forza viene attratta o respinta una carica in quella posizione. Visto che potrebbe risultare complesso disegnare i vettori per ogni punto, i campi elettrici vengono rappresentati attraverso delle linee, dette linee del campo elettrico. Grazie a queste linee è possibile descrivere il campo elettrico generato da uno o più carico. In un punto dello spazio dove c'è un campo elettrico, la direzione e il verso della forza esercitata sulla carica di prova si trovano tracciando la tangente alla linea di campo che passa per quel punto. Vediamo alcuni esempi di linee di campo. Una sola carica, due cariche con lo stesso segno, due cariche di segno opposto, due lastre cariche, una positiva e l'altra negativa. In quest'ultimo caso si parla di campo elettrico uniforme perché nella zona interna le linee del campo sono segmenti paralleli, assomiglia a quanto si può osservare con il palloncino e i veli del braccio. E con i capelli? Qui la cosa importante, torniamo indietro come vedete, la deviazione e il moto dei pezzettini di carta sono qualcosa che la prima volta che si è tutta osservata sembrava straordinario, cioè un oggetto che agisce su qualcosa a distanza. Questo in effetti è un concetto molto importante. Vediamo anche questo, sempre sulla introduzione dei fenomeni elettrostatici. Ecco qui abbiamo una lattina di alluminio ferma poggiata sul tavolo, una bacchetta di una sostanza che si chiama bachelite, ma è plasticosa, tutto sommato una roba resinosa. Se la strofinina la vicina riesco a muovere la lattina, per effetto che la bacchetta viene caricata elettrostaticamente per strofinio. e quindi può esercitare una forza attrattiva sulle cariche elettriche presenti sulla lattina, che si ridistribuiscono per induzione. Le cariche più vicine, il disegno opposto, si sente una forza attrattiva più intensa della forza repulsiva, quindi la lattina, tutto sommato, rotola e si sposta. Ok? Quindi in generale cosa possiamo dire? Beh, si osservano due tipi di comportamenti. Un comportamento attrattivo e un comportamento repulsivo. Se questo si schematizza assumendo che ci siano cariche di tipo e di segno in sostanza diverso, ok? Se strofino un panno di seta o di lana con il modo da caricarlo e poi strofino la plastico o il vetro, se ho elettricità di tipo diverso queste si attraggono. Invece se ho due sostanze dello stesso tipo, due, che ne so, aste, due barre di plastico o due barre di vetro caricate entrambe, queste acquisiranno carica dello stesso tipo e osserverò un comportamento repulsivo. così come se ho i due panni di seta o di lana caricati e questi apprenderanno la stessa carica. Per questo dualità nel comportamento si ipotizzano, si immagina che esistano due tipi di cariche diverse e quelle di tipo opposto si attraggono, quelle di tipo uguale si respingono. Come si interpreta questo? Beh, l'elettrizzazione, cioè il fatto che un corpo acquisisca o ceda carica, è legata alla struttura microscopica della materia. Abbiamo già visto quando abbiamo fatto termodinamica la struttura della materia a livello microscopico che è rappresentata dal disegno qui in alto a destra, abbiamo un nucleo carico positivamente e le cariche negative che orbitano attorno al nucleo. L'elettrizzazione dei corpi non è altro che il processo di acquisizione o perdita delle cariche più mobili, quelle che sono più facilmente cedibili, che sono di fatto le cariche più esterne nella struttura atomica, perché quelle più interne, le cariche positive, difficilmente abbandonano la struttura atomica, ok? E quindi cedendo o acquisendo cariche posso elettrizzare i corpi. Questo processo rispetta una legge molto importante e universale, che se ho un sistema chiuso, che non scambia materna con l'esterno, la carica totale interna al sistema rimane costante nel tempo si conserva. Questa è una delle leggi più fondamentali di tutta l'elettricità in realtà. La legge di conservazione, il totale, la somma algebrica delle cariche, quindi tenendo conto del valore ma anche del loro segno, è costante nel tempo, può passare da un oggetto a un altro, ma il totale si conserva. Quindi qui ho il nostro famoso pezzo di ambra e ho lo straccio di seta o il panno di lana, entrambi hanno carica totale negativa, ma quando li strofino non faccio altro che mettere in atto un processo che trasferisce la carica, in questo caso dal panno di stoffa all'ambra, che quindi acquisisce carica negativa, mentre il panno la perde, quindi acquisisce una carica positiva. Questo processo si chiama elettrizzazione per strofinio. Qui abbiamo una simulazione del FET che ve lo mostra, vediamo se riesco a farla partire, andiamo magari un poco più avanti, ok, ecco, c'è una bollettricità statica la simulazione, andiamo in play e qui vedete che abbiamo, vediamo se parte in tempi umani, ecco, abbiamo un maglione, un palloncino di plastica e il muro. Tutti questi corpi hanno carica totale nulla, ma se prende il palloncino e lo strofino sul maglione, come prima il signore faceva, con il braccio, i due oggetti, il palloncino si carica negativamente, il maglione acquisisce carica positiva perché carica negativa e quindi si attraggono. Se invece avvicino il palloncino al muro, vedete che respinge le cariche negative dello stesso segno e quindi crea un eccesso di carica positiva e quindi rimane attaccato al muro. Qui in questo modo possiamo fare evidenziare solo l'eccesso di carica, il muro rimane neutro quindi non è carico, il palloncino invece è il maglione, ma hanno acquisito carica. Se adesso ristrofino un'altra volta un altro palloncino, i due palloncini tra di loro si respingono. Se avvicino un altro palloncino, ma il palloncino giallo e verde si respingono, mentre se lo attacco al muro rimane attaccato anche quello sempre per le utilizzazioni. Vedete che qui appunto attaccando il palloncino al muro, le cariche sul muro, il muro è fatto di anche quello di materia globalmente neutra ma ci sono cariche positive e negative e la vicinanza del palloncino al muro fa sì che le cariche negative tendono a allontanarsi da quelle negative che ci sono sul palloncino per cui rimane sulla superficie del muro una delle cariche, una zona sguarnita di cariche negative che rimane quindi un eccesso di cariche positive che sono vicine a quelle negative del palloncino per cui si produce una forza attrattiva che riesce addirittura a tenere in sospensione il palloncino. Un'altra simulazione sempre dello stesso tipo, questo è magari un po' più buffo, un po' più divertente, l'hanno chiamata John Travolth, dal nome dell'attore per assonanza al nome di Volt, differenza di potenziale, immagiamo di camminare sul tappeto per strofinio, il nostro corpo si carica di cariche elettriche negative e se tocchiamo il tasto, cioè la manopola della porta che è metallica, l'elettricità si scarica sulla porta e quindi sentiamo una scossa. Mi sarà successo qualche volta addirittura anche magari quando c'è in inverno, quando sono giornate secche, un maglione di lana che mi era tenuto tutto il giorno, quando se lo toglie la sera senti degli scoppiettili che sono proprio delle scariche elettriche, che è l'elettricità statica che il maglione ha acquisito durante la giornata. Quindi la carica si trasferisce da un corpo a un altro ma non può essere né creata né distrutta, addirittura in processi legati alla fisica delle particelle, in alcuni contesti si possono creare delle particelle, come l'elettrone e la sua antiparticella, ma ogni volta che si crea una si crea la sua antiparticella in modo tale che la carica totale rimane costante. Questo si chiama legge di conservazione della carica. In un sistema chiuso la carica totale, la somma algebrica di tutte le cariche presenti rimane costante nel tempo. Sempre per quanto riguarda l'elettrizzazione e soprattutto la mobilità delle cariche, possiamo distinguere diverse categorie di oggetti. Si chiamano conduttori i corpi nei quali la carica elettrica può spostarsi macroscopicamente all'interno dell'intero corpo, quindi può spostarsi di distanze anche relativamente grandi. Mentre negli isolanti la carica non è libera di spostarsi, ma è vincolata a rimanere, per esempio le cariche elettriche e elettroniche sono vincolate a rimanere nelle molecole di cui fanno parte. Non può spostarsi macroscopicamente all'interno dell'oggetto, però può ridistribuirsi microscopicamente come vedremo tra un attimo. Poi c'è una terza categoria di sostanze che normalmente non sono conduttori, ma possono diventarlo in determinate conduzioni. Questi sono i semiconduttori. Ci sono una classe di sistemi molto importanti, per esempio nell'elettronica. Qui vediamo un esempio di elettrizzazione legata al fenomeno dell'elettrizzazione quando ha a che fare con oggetti conduttori, tipicamente i metalli. Immaginate di avere qui una sfera di metallo su questo sostegno isolante, che globalmente è neutra, ma se le avvicino una barra di vetro carica positivamente, allora le cariche positive della barra attraranno a loro, quindi della parte sinistra della sfera, le cariche opposte, quindi quelle negative, lasciando sguarnite di cariche negative, la parte destra, e quindi si ha una redistribuzione all'interno della sfera della carica elettrica che viene detta induzione. Quindi questo fenomeno di redistribuzione della carica dovuta alla presenza di una carica esterna e all'interno di un conduttore si chiama induzione. Quindi qui le cariche elettriche si muovono macroscopicamente da un estremo all'altro del corpo conduttore. Invece negli isolanti succede qualcosa di simile ma a livello microscopico. Immaginate di avere questo quadratino qui a grigio che rappresenta un isolante, tipicamente per esempio una plastica, se che normalmente è neutro, ma se avviciniamo a questo una barra, la stessa barra di prima caricata positivamente, allora non c'è uno spostamento macroscopico di cariche, però a livello microscopico, cioè a livello proprio di molecola, le cariche si ridistribuiscono deformando la loro distribuzione in modo tale che le cariche negative sono preferibilmente nel lato che dà verso la carica positiva esterna. Questa ridistribuzione microscopica di cariche si chiama polarizzazione. Mentre, ripeto, nei conduttori ho l'induzione, spostamento macroscopico di cariche, negli isolanti ho il fenomeno della polarizzazione, che è una deformazione a livello microscopico della carica nelle molecole che costituiscono la sostanza isolante. Ovviamente se la carica esterna, come la figura centrale, è negativa, ho una polarizzazione ma i segni sono invertiti, quindi le cariche negative tendono ad allontanarsi da quella positiva esterna, per cui ho sì una polarizzazione ma diverso opposto. Globalmente, se guardate come si configura il nostro quadratino di plastica, il lato sinistro è presente un eccesso di cariche negative, tutta la zona intermedia viene neutra perché le cariche negative sono affacciate alle cariche positive della molecola che li affianca e l'estremità destra invece rimane sguarnita di cariche positive, quindi ha un eccesso di cariche negative, però ripeto a livello microscopico, senza spostamento macroscopico di cariche. Questo processo che avviene negli isolanti, sottolineo di nuovo, prende il nome di polarizzazione. Quindi per polarizzazione il nostro quadratino di plastica, che comunque è neutro, ma si comporta come se avesse un eccesso di carica positiva sulla sinistra e un eccesso di carica negativa sulla destra. Ok? Bene. Torniamo ai conduttori e all'elettrizazione per induzione. Immaginiamo di avere per esempio due sfere metalliche conduttrici attaccate l'una all'altra, quindi la carica può spostarsi da una sfera all'altra. Se adesso avviciniamo la barra di vetro carica positivamente, allora per induzione la carica delle due sfere si distribuisce e la sfera a sinistra acquista una carica negativa, cioè l'elettrone si spostano a sinistra, mentre quella di destra rimane sguarnita di cariche negative e quindi acquista un eccesso di carica positiva. Se in queste situazioni separiamo le due cariche, quindi impediamo che le cariche si spostano da una sfera all'altra e poi allontaniamo la barra di vetro induttrice, rimarrà un eccesso di carica negativa sulla sfera di sinistra e un difetto di carica negativa, quindi un eccesso di carica positiva sulla sfera di destra, che quindi rimarranno cariche. In questo modo possiamo dire di aver caricato, utilizzando il fenomeno dell'induzione, le nostre due cariche conduttrici, pur rimanendo complessivamente al sistema sfera 1 più sfera 2, sfera destra e sfera sinistra in totale, alla carica che aveva prima, perché il totale è zero. Però adesso sono ridistribuite, quindi una è carica positivamente e l'altra è carica negativamente. Un'altra cosa che si può fare per fare in modo che la nostra sfera acquisisca carica è rimetterla a terra. Quindi prendiamo la nostra sfera conduttrice, ci avviciniamo alla barra di vetro caricata positivamente, la nostra sfera acquisisce una ridistribuzione di carica, quindi vedete che qui a sinistra ho più cariche negative che a destra. Se adesso collego la sfera con la terra, allora le cariche negative presenti nel terreno vengono attratte verso la sfera che quindi acquisisce una carica totale negativa, un po' come avveniva con le due sfere di prima. Se dopo rimuovo il collegamento a terra, la carica sulla sfera rimane diversa da zero, quindi rimane la sfera carica anche quando allontano la barra induttrice di vetro carica positivamente. In questo modo ho caricato la nostra sfera di metallo con una carica negativa. Se avessi avvicinato invece una petrina di plastica con una carica negativa, la nostra sfera si sarebbe caricata positivamente se messa a terra e poi rimosso il collegamento con terra. Anche questo processo sfrutta il fenomeno dell'induzione, dell'elettrizazione per induzione nei conduttori. E la messa a terra è un processo che si usa molto spesso proprio perché la terra si comporta come la sfera conduttrice che abbiamo visto prima, solo che è molto più grande. Come faccio a rendermi conto se un corpo è carico o no? Beh, lo strumento che mi serve per visualizzare la carica su un oggetto è chiamato elettroscopio e ha questa forma grosso modo. C'è una coppia di foglie molto leggeri, sono foglie d'oro in realtà, l'oro è un metallo, quindi un materiale conduttore, collegate con una barra ad una sfera metallica esterna. Le due foglie d'oro, che non vengono disturbate, sono racchiuse dentro il contenitore di vetro per poterle vedere. Immaginate di avvicinare la barra di vetro di prima carica positivamente alla parte superiore dell'elettroscopio. Qui quindi le cariche positive della barra di vetro attirano quelle negative nel metallo. Quindi le cariche negative si distribuiscono su questa sferetta in alto, lasciando sguarnita la parte inferiore dove abbiamo le foglie d'oro, che acquisiscono cariche dello stesso segno. Ma se le cariche sono dello stesso segno, si respingono. Quindi le due lamine, le due foglie d'oro tenderanno a respingersi l'una con l'altra. Quindi se vedo che si respingono, avvicinando la barra, so che questa barra, la barra di vetro che la avvicino, ha una carica elettrica, altrimenti le due foglioline di oro rimarrebbero immobili. Se poi con la nostra barra di vetro tocco la sfera superiore dell'elettroscopio, allora ho proprio un trasferimento di carica. Cioè le cariche elettriche passano dalla sfera superiore in alto alla barra di vetro e quindi l'elettroscopio perde cariche negative e quindi rimane elettricamente carico. Per cui le due foglioline di oro sotto all'interno della zona dell'elettroscopio rimangono separate, rimangono divaricate. Qui c'è un altro filmato che vi mostra il funzionamento dell'elettroscopio. In questo esperimento studiamo il funzionamento di un elettroscopio, uno strumento che ci consente di scoprire se un oggetto è elettricamente carico. Abbiamo bisogno di un elettroscopio, una bacchetta di ebanite o plastica e un panno di lana. Osserviamo che all'interno dell'elettroscopio ci sono due foglioline d'oro che si toccano. Strofiniamo vigorosamente la bacchetta di plastica con il panno di lana. Tocchiamo la sfera dell'elettroscopio con l'estremità strofinata della bacchetta. Subito le foglioline d'oro si respingono e si divaricano. Tocchiamo ora la sferetta con la mano. Le foglioline ritornano nella posizione iniziale. Avviciniamo infine la bacchetta al pomello dell'elettroscopio senza averla strofinata con la lana. Non succede nulla. Quando strofiniamo la bacchetta con il panno di lana la elettrizziamo per strofinio e le conferiamo una carica elettrica negativa. Nell'istante in cui la bacchetta carica negativamente tocca la sferetta conduttrice dell'elettroscopio, parte della carica passa sulla sfera, poi sull'asta metallica dell'elettroscopio e finisce per distribuirsi su tutto il dispositivo fino alle foglioline d'oro. Queste hanno cariche dello stesso segno e quindi si respingono. La loro divaricazione testimonia dunque che la bacchetta è elettricamente carica. Toccando l'elettroscopio con un dito la carica distribuita sullo strumento si scarica a terra attraverso il nostro corpo, anch'esso conduttore. Se infine tocchiamo la sfera dell'elettroscopio con la bacchetta di plastica senza strofinarla, non succede nulla. Quindi la bacchetta è neutra. Ok, questo mi sembra abbastanza chiaro. Dato questo comportamento, cioè A, possiamo elettrizzare i corpi. B, una volta che li abbiamo elettrizzati questi interagiscono, si attraggono, si respingono a seconda del tipo di carica che gli abbiamo conferito. Allora lo spazio successivo è andare a studiare quantitativamente come è fatta questa interazione, che caratteristiche ha e soprattutto quanto è intensa. Il primo che ha fatto questo tipo di analisi è Charles Coulomb, un fisico francese del XVIII secolo, che è andato a misurare qual è l'intensità con cui cariche diverse si attraggono. E per farlo ha costruito, ha realizzato questa bilancia di torsione, con la quale misurava l'effetto che hanno cariche diverse su queste due barre. Questa è una specie di manubri, un'asta con due sfere metalliche agli estremi, entrambe caricate, avvicinando una carica C, un'altra sfera carica a una delle due, la barra si torce, si tende a ruotare e ovviamente la rotazione non è molto molto intensa. Per riuscire a misurarla ho usato questa tecnica, ha messo una specie di specchietto sull'asta, sul filo che sorregge la barra orizzontale e la torsione fa sì che lo specchietto ruoti quando viene avvicinata una carica e questa rotazione può essere visualizzata andando a vedere come viene deflesso un fascio di luce, un raggio di luce che colpisce lo specchietto e che viene riflesso su una parete dove è una scala graduata. Posso misurare quindi l'angolo di torsione dal spostamento del fascio di luce che colpisce la scala graduata e quindi risalire alla intensità della forza che fa spostare l'asta metallica, l'asta sospesa del filo. In questo modo, cambiando i valori della forza cambiando le loro distanze, Coulomb è riuscito a mostrare che cariche diverse, puntiformi, interagiscono, quindi si attraggono o si respingono con una forza F che è proporzionale al prodotto delle due cariche, le cariche sulle due sfere, diviso la loro distanza al quadrato, la distanza di separazione tra le due cariche, per una costante K che prende il nome di costante di Coulomb, che nel vuoto vale 8,99 per 10 alla 9 N per metro quadro su Coulomb alla seconda. Quindi qui, proprio per i meriti dovuti a Coulomb nell'analisi quantitativa di questa interazione, l'unità di misura della carica elettrica prende il nome di Coulomb, C maiuscolo. e la simulazione che avete in questa pagina è proprio quella che indica come si può andare a quantificare la forza di Coulomb. Qui avete due cariche, Q1 e Q2, una azzurra e l'altra rossa, di valori diversi, qui la Mi significa micro Coulomb e ovviamente anche se le cariche sono diverse, la forza con cui interagiscono è la stessa, perché per il terzo principio della dinamica una forza è la reazione dell'altra, vedete che le forze diminuiscono se lontano le cariche, se raddoppio la distanza la forza si riduce di un fattore un quarto perché è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, mentre se le avvicino la forza si intensifica e diminuendo la distanza di metà questa diventa quattro volte più grande ovviamente. Ok? Ma attenzione come vedete le due forze sono della stessa intensità stessa direzione ma versi opposti. D'accordo? Anche questa simulazione la trovate sul sito da effetto. Andiamo avanti. Qui viene usata come dicevo prima proprio la legge di Coulomb per definire l'unità della carica elettrica. Dico che la carica elettrica di un oggetto è di un Coulomb, se due oggetti della stessa carica, posti a distanza di un metro, si respingono se hanno lo stesso segno o si attraggono se hanno segni opposti con una forza che misura 8,99 x 10,9 N. In quel caso dico ecco la quantità di carica vale 1 Coulomb, che è una quantità di carica tutto sommato molto molto grande. Normalmente le cariche che si producono sono dell'ordine del micro di altura del nano Coulomb, quindi 10 alla meno 6 o 10 alla meno 9. D'accordo? Quindi quello che qui è importante è proprio la relazione che lega la forza con le cariche e con la distanza. Ok? Ebbene, questa viene detta legge di Coulomb e K è la costante di Coulomb. dato che l'interazione tra cariche elettriche è una forza, anzi, detto al viceversa, è una forza perché rispetta il principio di sovrapposizione, cioè le forze tra cariche elettriche si comportano come vettori. Quindi immaginate di avere ad esempio anziché due cariche 3, la carica Q1 qui in basso a sinistra, la carica Q2 in alto e la carica Q3 in alto e un po' più a destra, sulla carica Q3 agiscono sia la forza repulsiva dovuta a Q2 che è dello stesso segno, sia la forza attrattiva dovuta a Q1 che è di segno opposto. Quindi avrò due forze, F1-3, quindi la forza sulla carica Q3 dovuta alla carica Q1 e F2-3 che è la forza sulla carica Q3 dovuta alla carica a Q2. La forza complessiva, che è quella risultante, è quella che ci sarebbe se ci fosse solo Q2 più quella che si avrebbe se ci fosse solo Q1 sommate vettorialmente, quindi si comportano come vettori, per cui uso la regola del parallelogramma e quindi posso determinare l'intensità direzione verso del vettore risultante. Quindi forze dovute a cariche diverse hanno un effetto complessivo che è dato dalla somma vettoriale di ogni singola forza dovuta alle varie cariche presenti nello spazio vicino a quella su cui ci interessa calcolare la forza, in questo caso Q3. Questa legge, questo comportamento viene chiamato principio di sovrapposizione, cioè le forze si sovrappongono, si sommano come se non ci fossero le altre e l'effetto complessivo è quello che ottengo semplicemente dalla somma vettoriale. Questo è un effetto molto importante. Andiamo a vedere adesso più in dettaglio alla luce di quanto abbiamo visto sulla forza di Coulomb, il comportamento di un isolante, cioè l'effetto della polarizzazione. Immaginate di avere la figura qui a destra, due lamine metalliche, questa struttura la vedremo molto meglio in futuro, si chiama condensatore, ma insomma per adesso mi basta che la visualizzate in questo modo, avete due lamine metalliche con carica su di esse, a sinistra avete più Q grande, a destra meno Q grande, quindi queste due cariche interagiscono l'una con l'altra, quindi più Q grande agisce su meno Q con una forza attrattiva, ok? E se mettiamo all'interno di questo spazio un isolante, quindi un oggetto nella quale le cariche non si possono spostare, però avremo una deformazione microscopica delle singole molecole, qui vedete queste specie di ellissi piccoline rappresentano le molecole e quindi il lato sinistro di ciascuna molecola acquisisce un eccesso di presenza di elettroni, perché? Perché gli elettroni di ogni molecola tenderanno a spostarsi prevalentemente nella regione vicina alle cariche positive, proprio per l'azione della forza elettrostatica di Coulomb, perché cariche opposte si attraggono, quindi lasciano sguarnite di cariche negative il lato destro della molecola, così lo stesso nella molecola successiva e così via, quindi all'interno dell'isolante gli eccessi positivi e negativi si fronteggiano, quindi tutto sommato cancellano il loro effetto, mentre le due facce estreme, quella più a sinistra e quella più a destra, è come se ci fosse una distribuzione di carica negativa a sinistra e positiva a destra in eccesso dovute alla polarizzazione del mezzo, ok? Che sicuramente è meno intensa di quello che avrei se ci fosse un conduttore, però è comunque presente, e quindi se io immagino un punto all'interno dell'isolante, in questo punto avrò una forza elettrostatica più piccola, se ci mettessimo una carica qui in mezzo, più piccola di quella che avrei nel vuoto, perché? Perché la carica, l'effetto della carica più Q grande nel piatto metallico di sinistra, è ridotto dalla presenza della distribuzione di carica negativa che si viene a creare sul lato sinistro del mio materiale isolante. Questo effetto di ridurre la forza elettrostatica in un mezzo viene misurato da questo numerino che si chiama costante dielettrica relativa, εr, che misura il rapporto tra F0, cioè la forza che avrei tra cariche elettriche nel vuoto, diviso F, che è la forza che ho invece tra le stesse cariche, alle stesse distanze, ma all'interno di un mezzo, di un mezzo isolante. F0 è la forza nel vuoto, F è la forza nel mezzo, qui K0 diventa la costante di Coulomb nel vuoto, che per questioni di semplificazione che vedremo più avanti, viene definita come 1 su 4π ε0, dove ε0 prende il nome di costante dielettrica assoluta del vuoto. Il valore di ε0 è legato alla scelta di unità di misura, se F si misura in newton, Q in Coulomb, R in metri, ε0 prende proprio quella unità di misura, quindi quel valore legato all'unità di misura scelta. Mentre εr, essendo un rapporto tra forze, forza F0 diviso forza F, è un numero puro, perché è un rapporto tra grandizze omogenee, quindi F newton, F newton, newton fratto newton si semplifica. Quindi l'espressione completa della forza elettrostatica di Coulomb è F uguale a K, Q1, Q2 su R quadro, dove K vale 1 su 4π, ε0 per εr. Qui in questo modo tengo conto del fatto, quindi K la costante di Coulomb tiene in conto non solo dell'unità di misura, ma anche della presenza di un mezzo. Un conto è se le cariche si trovano nel vuoto, un conto è se le cariche si trova per esempio nell'acqua, nell'alcol, in un liquido, in un vetro, in un materiale. La forza è diversa. La costante tiene in conto della polarizzazione del mezzo nel quale le cariche si trovano. Ok? Molto bene. Qui c'è un nuovo, viene specificato il valore delle costanti. K0, costante di Coulomb nel vuoto, che è 8,99 per 19 newton per metro quadro su Coulomb alla seconda, e ε0, costante di elettrica assoluta del vuoto, che è 8,85 per 10 almeno 11 Coulomb alla seconda fratto newton metro quadro. In generale, la costante di elettrica di assoluta del mezzo si compone del prodotto quella del vuoto per quella relativa del mezzo rispetto al vuoto. Ok? Vi ricordo che εr appunto ha dimensioni, non ha dimensioni, mentre εr si. Ok? Vediamo se riusciamo a completare anche questo punto. Non vi sarà sfuggito che la forza di Coulomb, che qui vedete sulla sinistra, ha una struttura piuttosto simile a un'altra forza molto importante che avete visto in passato, quella di gravitazione universale. Le due forze hanno molti aspetti simili, ma anche molti aspetti che le differenziano, che le distinguono. Entrambe sono forze proporzionali all'inverso del quadrato della distanza, e questo è un punto importante che le accomuna. Entrambe le forze sono direttamente proporzionali a due grandezze, le masse per quella gravitazionale, le cariche per quella elettrostatica, che sono le sorgenti di questa forza. Ok? Però ci sono cose che le distinguono, mentre per esempio nel caso della forza gravitazionale la costante di gravitazione universale G è una costante universale che non dipende dall'ambiente, la trazione gravitazionale nel vuoto in un mezzo esattamente la stessa, mentre nel caso della carica di forza di Coulomb, la costante K dipende dall'ambiente. E questo è legato al fatto che, oltretutto, la forza gravitazionale è puramente attrattiva, non esistono masse che si respingono, tutte le masse tra di loro si attraggono, mentre nel caso elettrico cariche si attraggono solo se sono di segno opposto, mentre se sono nello stesso segno si respingono. Ok? E questo fa sì che appunto insorgano fenomeni come la polarizzazione che nel caso invece della forza gravitazionale non ci sono. Quindi il doppio comportamento dell'interazione elettrostatica non si verifica in quella gravitazionale e questa è una bella differenza. Ma la differenza ancora più importante è proprio l'intensità, cioè la scala di quanto intensi sono queste due forze. E lo vediamo andando a considerare un esempio. Immaginate un sistema semplice, un atomo di idrogeno. Abbiamo due particelle, un protone e un elettrone vicini tra di loro, il raggio nucleare medio è 0,5 per 10 alla meno 10 metri, come distanza media. Le cariche del protone e dell'elettrone sono lo stesso valore ma di segno opposto l'una rispetto all'altra e valgono 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb. Qui avete le masse dell'elettrone e del protone, il valore di K e di G. Quindi possiamo calcolare sia la forza gravitazionale tra protone ed elettrone, che vale 3,61 per 10 alla meno 47 newton, sia la forza elettrostatica, sempre tra protone ed elettrone, che vedete è un valore ben diverso. Se noi facciamo il rapporto otteniamo che le due forze stanno in questa relazione. Ci sono circa 39 ordini di grandezza diverse, quindi la forza elettrostatica è enormemente più intensa di quella gravitazionale o se preferite quella gravitazionale è molto più debole di quella elettrica. Per questa ragione, per esempio, la struttura delle molecole non è determinata dalla forza gravitazionale. Su quelle scale lì quello che domina è la forza elettrica, quella gravitazionale non ha praticamente alcun peso. Viceversa, invece, su scala cosmica, su distanze molto grandi, siccome gli oggetti celesti, stelle, pianeti, eccetera, sono elettricamente normalmente neutri, quello che domina è la forza gravitazionale, mentre quella elettrica, tutto sommato, ha un peso molto più piccolo. Quindi la struttura del cosmo è retta dalla forza gravitazionale, mentre la struttura microscopica della materia è retta dalla forza elettrostatica. D'accordo? Ok, per oggi penso che possiamo fermarci qui. Vi raccomando brevemente quello che abbiamo visto. Abbiamo visto la carica elettrica e i suoi comportamenti, il comportamento attrattivo e repulsivo. Abbiamo visto come si trasferisce la carica elettrica da un corpo e poi a un altro, quindi l'elettrizazione dei corpi per strofinio, per induzione e per polarizzazione. La legge di conservazione della carica elettrica, che è una delle cose più importanti che abbiamo visto oggi. Il doppio comportamento tra conduttori e isolanti. Nei conduttori le cariche si possono muovere, negli isolanti no, ma si possono comunque redistribuire a livello microscopico. La legge quantitativa su come interagiscono cariche diverse tra loro, la legge di Coulomb, da cui abbiamo visto come si definisce la unità di misura della carica elettrica, e il comportamento diverso tra l'ambiente nel vuoto e in un mese della carica dell'interazione elettrostatica e il confronto con la forza gravitazionale. Ok? Ci sono domande? No. Bene. Ci fermiamo qui allora.